Pronto agenda? Pronto? Un appuntamento per domani, 13 dicembre, alle 12, con il medico. Grazie. Milano. Dionigi Dali Carnasso diceva che portava tutta la sua casa con sé. Omnia mea me comporto. Con lo smartwatch LGG watch, la profezia dell'antico filosofo greco si è finalmente avverata. È proprio così. LGG watch è il capostipite di una nuova generazione di orologi da polso. All'interno della confezione troviamo l'alimentatore, il cavo e la base per la ricarica. La base magnetica si collega sotto l'orologio ed è grande e ingombrante. Obbligatorio portarsela dietro per ricaricare il G-Watch. Lo smartwatch non ha un design particolarmente ispirato, ma non guasta, ed è resistente a polvere e acqua, perciò si può portare sotto la doccia o in spiaggia. Il processore è uno Snapdragon 400, ultra potente, assieme a 512 MB di RAM e 4 GB di memoria interna. Non è presente purtroppo un altoparlante, mentre c'è ovviamente il microfono, indispensabile per eseguire praticamente tutte le operazioni. Presente il Bluetooth 4.0 per collegarsi al proprio smartphone, mentre manca la connettività Wi-Fi, GPS e il 3G. Sotto la doccia, al telefono, mentre si fa ginnastica o si corre, lo smartwatch non tradisce mai. Rispondi al telefono, leggi la posta, invii messaggini. In accoppiata con l'LGG3, il telefonino che ha vinto l'Oscar della telefonia mobile nel 2014, è veramente vincente. Resta da risolvere solo il problema della batteria, dura un giorno o poco più. E per lo standard di un orologio sembra poco, e non siamo ancora abituati agli smartwatch. In accoppiata con l'Oscar dell'Oscar dell'Oscar.